Ritorna a mano morto cimitero. Da lunedì prossimo 7 gennaio si potrà nuovamente rendere il proprio cordoglio ai familiari dei defunti al cimitero di Piana Traversa a Favara. E' il sunto della nuova ordinanza del sindaco Manganella, la numero 3 del 4 gennaio 2013, che revoca quella precedente, la 233 dello scorso 27 ottobre, che vieta i saluti di cordoglio al cimitero. Una ordinanza che è durata due mesi, ma che tanto rumore e malcontento aveva generato tra la popolazione favarese, tanto che sulla stessa modifica in vigore da lunedì si ammette che quella di due mesi fa non è stata nemmeno rispettata dai cittadini. Uno scontento che lo scorso 28 dicembre aveva portato il Consiglio Comunale a presentare ed approvare una mozione consigliare con la quale impegnava il sindaco ad apportare le necessarie modifiche. Da lunedì quindi i funerali cattolici si svolgeranno in questa maniera. Il carro funebre trasporterà la salma dalla casa del morto alla parrocchia di Pertinenza, dove si celebrerà il rito funebre. I saluti ai parenti del morto non sono consentiti né davanti la casa del defunto né davanti la chiesa. Si potranno fare invece al cimitero di Piana Traversa, solo dopo che il carro avrà trasportato la salma alla camera mortuaria del cimitero.